ok 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 multi quality c'è andiamo su twitch a vedere se è tutto a posto e si parte si parte per il gran finale ragazzi ci siamo ci siamo 41 secondi il volume di gioco c'è andiamoci a prendere delle frecce non si sa mai perché siamo con zero frecce e non è mai buona questa cosa anche perché suppongo serviranno tanto ok ci mettiamo a questo punto ci mettiamo anche mettiamoci quelle normali più che quelle che si arrampicano come parlo come speriamo di aver di aver settato tutto perché sono andato velocemente in live perché al di là che ho una voglia stavo cascando stavo cascando nel senso stavo mi son fatto prendere ciao robbie sei nell'ultima live robbie ufficiale ufficiale ultima live come stai come stai noi ci sentiremo a breve robbie per per molti aggiornamenti ok loro non mi hanno dato frecce questo potrebbe essere un problema c'erano frecce qui non c'erano frecce qui c'erano frecce qui allora eh si robbie tu visto che siamo io e te siamo sei sei al lavoro dove sei che vai al lavoro niente da fare ok tra l'altro il brano è quasi pronto di zelda lo dico a te come come potrei dirlo ad altri quindi bello non non vedo l'ora perché uno dei dei miei è un brano dei miei decisamente un brano dei miei ok non mi serviva in realtà la magia mi servirebbe a me un po' di frecce mi servirebbero quindi quel cuore mi fa comodo sì anche perché mi hanno beccato appena beccato ok e usciamo sono in studio ok la buon lavoro robbie dai tanto ti ripeto ci sentiremo molto presto tempo di concludere qua questa meravigliosa avventura iconica che verrà vabbè questa si si esplode no ma ok a parte che c'è un super mega segreto qui aspetta ok perfetto sì sì robbie assolutamente robbie allora sì sì sappiamo sappiamo a cosa serve questo non abbiamo quello che rimbalza vero cacchio ci servirebbe quello che rimbalza come scudo c'è quello che fa rimbalzare il tutto ehi ma non credo che lo abbiamo alzo poco un po il volume di gioco perché ok dai ok grazie ok no le bombe non mi servono no mi servono le frecce grazie mi dai le frecce no dai pozione rossa no ti prego dammi le frecce una persona che mi una persona un sì grazie perfetto grazie ok ora possiamo andare abbiamo lasciato anche una fatina ottimo uh rupie 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 si sarà un brano in realtà il brano nonostante appunto sia l'ultima live questa quindi ancora il gioco non sia finito il brano è pronto perché non potevo esimermi da 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 portarmi avanti in quanto beh quello che faccio scrivere canzoni quindi appena avuto appena avuto appena ho avuto parliamo bene l'opportunità l'ispirazione ho iniziato a scrivere qualcosa quindi è ovviamente un brano adattabile che si adatta non parlo solo con robbie ovviamente parlo con chiunque arriverà con chiunque vedrà la live la diretta la replica su youtube e quindi stavo dicendo si è un brano che si adatta a un genere ben specifico no come testo ovviamente quindi ci saranno poche parafrasi diciamo cantautorali per chi un minimo capisce e il testo sarà appunto molto non giocoso assolutamente ma molto fantasy ecco però ovviamente è sempre il mio stile quindi sarà fantasy fino a un certo punto allora quello noi lo lasciamo perdere ah ok va bene sappiamo cosa fare yes facciamo rendiamo le frecce di fuoco aspetta però qua aspetta 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 mettiamoci mettiamoci queste così anche perché a tempo abbiamo visto perfetto stiamo attenti ok ok ottimo quindi non vedo l'ora non vedo l'ora veramente di uh rupie ci servono in realtà allora si e no 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 le frecce ci servivano va bene allora credo che noi dobbiamo di nuovo fare quello giusto ok si ok cos'è questo uh questa è tosta ok questa è tosta questa è tosta e siccome oggi salveremo tanto perché eeeh purtroppo e per fortuna eeeh non posso permettermi di eeeh di fare un'altra un'altra diretta proprio per gli impegni di cui vi parlavo dobbiamo completare oggi questa avventura quindi io penso che se noi facessimo in questo modo ok senza cadere magari ok no ecco questo quello che intendevo io eeeh non ce lo possiamo permettere allora quindi qua dobbiamo un attimino vedere perché non posso io volare no quindi devo fare per forza così vabbè dai eeeh ce la possiamo fare forse se ci togliamo gli stivali andrebbe meglio sono quasi convinto di questa cosa ok molto meglio no 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 però se così non andiamo da nessuna parte perché devi fare questa cosa perché devi fare questa cosa è brutta questa cosa da fare eeeh allora togliamoci gli stivali ci mettiamo il martello visto che quello se non sbaglio si colpisce col martello non lo so forse no eeeh ok cerchiamo di farlo con calma eh però magari beccandolo aia c'ho un male al dito ok perfetto bellissimo ok meno male che ho avuto questa intuizione perché cosa ci potrà mai essere qui tananananananananananananananana tanananana uh trovi guanti d'oro senti ancora più potenza nelle tue braccia potrai afferrare gli oggetti con ok ho capito bellissimo bellissimo abbiamo iniziato eeeh questa cosa si può fare con gli stivali si che si può fare con gli stivali penso proprio di si infatti perfetto e qui che serve ok ma è un segreto quindi questo no non è un segreto eeeh vabbè questo è easy ci aggrappiamo qua ah ma c'era anche una torcia lì pensate vabbè eeeh leviamoci gli stivali che non si sa mai quindi già fatto il questo dungeon uh già fatto questo dungeon ottimo ottimo davvero ci prendiamo questa ok abbiamo iniziato benissimo sarà stato l'imbocca al lupo di di roby ok ci mettiamo loro mettiamo questo e bam yes ottimo 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 ok eeeh si 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 è tolta salva la principetta come la barriera d'ombra è tolta no non è non è tolta la barriera d'ombra scusate non ne manca uno ne mancano due poi non ne manca uno eeeh sono un attimo perplesso e appunto non è tolta la barriera perché mi ha detto la barriera d'ombra è tolta forse della porta non non ok manca ancora questo giusto prima di fare quello tra l'altro allo oh ok ok vai sappiamo cosa fare gah uuuu eeeh aia non so dove andare aia non so dove andare non so dove andare salta ok ok sono già diventati d'oro si perché ce li ho d'oro ok facciamo questo nooo bellissimo tra l'altro bellissima questa cosa vai eeeh mamma mia ok uuuu ha creato un ponte anche questo vola piano piano vola vola ti prego perché non l'hai preso senza guardare ok avrei dovuto mettere gli stivali vero si quale manca un attimo qui ok 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 tranquillo 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 ce la possiamo fare ce la possiamo fare ok ok stai calmo stai calmo l'arpione c'è ci mettiamo qua cacchio pensavo di farcela allora non ci mettiamo lì troppi cuori abbiamo perso troppi cuori tra l'altro posso fare potrei fare anche una cosa molto più tranquilla e ok ho voluto fare io il lo splendido ma e no invece avevo ragione perché non credo di arrivarci esatto ma perché faccio questa cosa ok allora ho fatto la cosa più complicata allora i cuori non ci spaventano in realtà è molto semplice quello che dovrei fare perché io basta che faccio così dai salta troppi cuori troppi cuori allora uno ok poi 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 aia 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 ok ok c'avevo tutto il tempo in realtà già fatto uh già fatto ok ok già fatto è molto facile questo o forse l'ho fatto bene e in ordine io ordinato io no manca l'ultimo ancora stavo dicendo possiamo andare dentro finalmente è tornata la tazza di zelda per l'ultimo ah ok mi dice una frase ok la barriera di fuoco la barriera d'ombra ok io pensavo fosse quella del dungeon principale invece no la barriera d'ombra è intesa come del dungeon del mini dungeon d'ombra ok ok perfetto quindi 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 allora manca quello lì si figo perfetto si comunque si poteva fare ah non l'ho ancora detto eh ma vai il vicio mi ha mandato un video subito dopo la live dell'altra volta in cui si mostra che avevo ragione e avevamo ragione insieme a vice ovviamente del fatto che si può benissimo completare il gioco senza prendere le frecce di fuoco e di questo sono sono veramente contentissimo allora c'è qualcosa di c'è qualcosa di di invisibile quindi sono veramente felice di questo uh si c'è giusto qualcosina di invisibile poi cosa c'è ok 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 ah senta però datemi i cuori quindi si si poteva fare eh tra l'altro nel metodo come stavo facendo io ottimo io ho paura che sono mimic questi non sono mimic ciao franci eh lo sapevo che erano mimic ok ok sapevo vabbè dai ci sta mezzo ma è l'ultimo questo vabbè ci starebbe dai che è che è corto ottimo perché possiamo questo sarà un mimic no come va come va come va franci quindi sono veramente felice di questa cosa perché mi conferma quanto in realtà Zelda sia veramente equilibrato benissimo ah ok sono più di un ok lo carina allora no ok ah ok pensavo si aprisse invece no non so perché mi dava l'idea di un mimic questo qua no invece no dai ok ok dungeon finale uh abbiamo un minuto per fare cosa ok frecce eh ahia ok non vedo non vedo però telecamera telecamera vabbè vado vado a non vedo nulla è quello il problema cioè è un problema questo ok me l'aspettavo non è qua dov'è l'altra ok era nascosta no seriamente dai cavolo vabbè dai ah no aspetta dobbiamo soltanto ah vabbè ok easy ok non abbiamo vabbè questa è stata fortuna questa è stata solo fortuna ok questa è stata solo fortuna ciao killer gamer 841 benvenuto benvenuto fra i poeti estinti sei capitato in un momento del canale veramente particolare perché siamo a fine run vedi tutto spento senza luci perché siamo proprio a fine anche a a pausa del canale perché io in realtà faccio musica è un canale musicale questo qua questa è un'unica avventura se sei capitato qui per zelda mi fa molto piacere perché è comunque una una rubrica di nicchia che stavo facendo infatti è un'unica avventura di retro gaming e proprio perché sono un musicista così mi presento per quello che che faccio qua su twitch al fine di questa avventura appunto realizzerò un brano su zelda ocarina of time perché lo ritengo molto iconico no è la prima volta che che lo gioco ciao alex allora arrivi tardi solo per quanto riguarda i dungeon i mini dungeon che rimanevano ma perché abbiamo abbiamo completato l'ultimo e quindi adesso c'è la via principale che si apre quindi in realtà arrivi da una parte da un certo punto di vista in tempo per eccolo qua per quello finale non so cosa aspettarci killer game tu conosci zelda e ok vedo una luce lì ma ah no siamo noi allora ah bello perché anche io faccio musica perché suono la chitarra che bello che bello mi fa tanto piacere comunque sul mio canale youtube ci sono tutte le repliche delle mie live quindi lì potrai capire cosa ah le ha anche giocato perfetto vabbè ovviamente normale no spoiler se mi intoppo aiuti sono molto graditi ok ma non credo che ormai io mi possa intoppare perché credo che si tratti di si tratti di intanto si tratti di riuscire a prendere il target e e penso che si tratti dell'area finale di battere il boss finale credo ah ottimo perfetto non ci sono come si dice cose segrete qua quindi ti dicevo comunque nel box informazioni hai tutto ciò che ti occorre per per sapere di me quello che faccio credo che potrei potrei evitarli vero questi cioè potrei correre però vabbè dai è l'area finale è la classica scalata verso facciamo così dai proviamo perché non vorrei che siano ah ok si 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 può evitare ok mi sa che qua non possiamo evitare nulla carini loro tra l'altro aspetta aspetta io voglio 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 lo scudo rosso voglio lo scudo rosso che spero pari nello stesso modo non non rifletti e basta ma se tipo io caricassi il ok è stato molto più semplice del previsto è stato molto facile sono stato bravo io era semplice quello è il discorso ok e per concludere il discorso killer così non ti non ti per concludere il discorso caro killer sennò sembra il discorso killer su youtube hai tutte le mie tutte le mie live in replica ok 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 già questi sono un po' più tostarelli vabbè ma forse li li sto al fuoco non li ok sto sopravvalutando i nemici sto sopravvalutando i nemici ci sarà il vieni qua l'ho fatto a aiutare il ottimo questo ultimo colpo mi è piaciuto molto da maestro ok chiave del boss si è diventato troppo forte il nostro michael è diventato troppo forte alex o killer o chi sia in chat l'audio è alto perché a me piace tenerlo così come trovi la chiave del boss siamo arrivati ragazzi tra l'altro alex è tornata la chiave si la chiave la tazza del la tazza di zedda per il gran finale va bene grazie alex ma tu c'eri la scorsa volta quando master ci diceva che servivano per forza le frecce di fuoco per andare avanti perché ti voglio dire una cosa ecco vicio subito dopo la live mi ha mandato in privato il video in cui mi faceva vedere che non è obbligatorio prendere le frecce perché il metodo che stavo facendo io era giusto dovevo solo usare un'angolazione diversa quindi si può fare veramente ed è questa cosa è bellissima per me non perché avevo ragione ma perché mi fa capire quanto zelda sia fantastico buongiorno momentaneamente in muto a tutti aspetto che finisca il turno e sarò devosto al 100% vicio ho appena detto che grazie a te ho scoperto che si potrebbe fare la cosa del del non frecce di fuoco quindi grazie vicio tranquillo cacchio cacchio questo questo non è semplice allora loro sono due boss che abbiamo incontrato separatamente aia aia ok così prendo tempo anche per il buon vicio aia 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 tussce allora ma se io facessi una cosa del genere sarei troppo cattivo no perché loro lo farebbero a me quindi io avviamo la fight ma così mettiti ben dritto aspetta che ho messo il coso del ok voglio fare eh dai però ti sistemi grazie bellissimo intanto siamo alla fine cacchio loro tolgono tanto devo stare attentissimo no no non va bene non abbiamo iniziato per niente bene ok dai è questo che mi preoccupa in realtà sono stato avventato io è molto probabile che moriremo perché un colpo e ci sciottano però ok ma sei ma sei ok mi ha cambiato il target e la camera ok ok no non moriremo però potevo farla molto meglio potevo farla molto meglio peccato vabbè peccato davvero anche perché credo che sia l'ultimo prima del boss finale questo vabbè ce lo facciamo così dai tanto abbiamo due ampolle di di vita dai cioè nel senso allora cosa ci mettiamo le frecce vabbè ci mettiamo queste e non lo so cosa ci potrà servire al boss finale non c'è nel senso so che è ganondorf quindi sicuramente l'abbiamo incontrato una volta nella stanza con i quadri beh io metto le bombe queste dai un po' per anche allora salveremo prima della 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 porta con la chiave da boss eh infatti immaginavo ci fosse ancora un'altra prova allora cavolo nella prossima prova chi c'è tutte tutte mani di mamma ok no c'è la porta del boss allora ragazzi boss finale ci siamo veramente stavolta ok allora fammi controllare solo se c'è allora credo immagino per come Zelda ci ha istruiti che il boss finale ci siamo sì il boss finale ci spingerà ad usare tutto ciò che abbiamo a nostra disposizione quindi io per adesso non voglio curarmi e fullarmi quindi sorsino d'acqua e so che può sembrare discostante ma la sto vivendo in questi giorni quindi lasciatemi dire che la forza sia con noi quindi allora Ganondorf non Ganondorf niente Ganondorf allora quei tutti quei vasi non è proprio rassicurante frecce ok ci serviranno frecce ci serviranno frecce fermi tutti ci serviranno le frecce e ci servirà la magia questo questo è meno rassicurante ok no no dai dammi volevo altri cuori vabbè dai dobbiamo salire lì sopra vero ormai li apriamo tutti dai dai facciamo le cose per bene per bene facciamo le cose davvero avventurieri immaginavo perfetto eccoci Ganondorf no eccoci no è giusto quello che sto facendo no mi sa o è una parete finta un tetto finto no non è un tetto finto ci serve la lente dai non posso perdere metà cuore vabbè usa magia usa magia intenti intenti intendi la lente Alex intendi la lente Alex aspetta ma ci sono due ma ci sono due porte aspetta non serve la lente mi sa vai ah eccoci 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 allora quella stanza era solo da ok era per rifornirci ok 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 ci sta è molto è molto che belle le scalate finali verso i boss mamma mia che bello cioè verso i boss finali ok dovremmo esserci dovremmo esserci eccoci ragazzi organi alzo il volume ok 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 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo davvero la nostra principressa Zelda perfetto intrappolata in un cristallo il senza Sky Approved lui che suona l'organo bellissimo ok la Triforza i due marchi della Triforza che servono a Ganondorf per completare il suo piano ci fullano scusa che pro allora i vasi strano vabbè le parti della Triforza vibrano ciò che era uno si sta riunendo mamma mia difficità le due parti della Triforza che non potei prendere quel giorno di sette anni fa non mi aspettavo si trovarsene nascoste in voi due eh sì invece e ora alla fine tutte le parti della Triforza sono qui tutte e tre vabbè comunque io non conosco la storia degli altri Zelda ma non sono giocattoli per te cioè non sono giocattoli per te ti ordino di restituirmeli subito credici Ganondorf Franz Mikkel ragazzi non l'abbiamo salvato Mikkel non posso aiutarti a causa delle onde di tenebra non mi avvicinerò va bene mi spiace Mikkel farò da solo Navi mettiamo in start e salviamo adesso perfetto lo faccio ragazzi per un semplice motivo perché come ho detto all'inizio live purtroppo ho alzato il volume un po' troppo non posso permettermi di fare altre live lo so che è tristissima da dire ma almeno non a breve quindi dovrei se non lo finisco oggi dovrei rimandarlo per troppo tempo e state scherzando anche a livello ok ah beh bene ah ok va bene abbiamo capito a cosa serve sto un po' in silenzio a cosa serve Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nella prima boss fight con lui, nei quadri. Non capisco perché non lo targhetta però. È un po' un problema questo. Ciao, Simplicity! Non lo targhetta, raga. Ok, va bene, va bene, va bene, dai. Stiamo imparando, va bene. Però devo stare fermo perché... La telecamera mi sposta, non mi fa percepire quando si sta avvicinando la magia. Moriremo, non è un problema, non è un problema. Allora, o sto sbagliando qualcosa... No, 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 no. Eh, ma ci ha sprecato l'altra cosa? Ci ha sprecato l'altra ampolla? Eh, però così no. Vabbè, dai. Proviamoci, non ci arrendiamo. Sì, è diventato una partita a tennis, esattamente. Esattamente, lo stavo dicendo, lo stavo pensando io mentre... Però ragazzi, mi dà fastidissimo che non riesco a... A target... A targettarlo. Cioè, è fastidiosissima questa cosa del... Dai, dai, concentrati, vai. Questione di timing, di timing, di timing. Quanto, però? Ok, 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 ok. Ottimo! Ok, però dai, abbiamo capito, dai. Va bene. Più forte gli dà il colpo e più aumenta la... Ok, vabbè, apposta. Sto comprendendo, dai. Non era un buon colpo. Ok. Ok, 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 ok. Voglio provare a dargli un colpo forte. Non è stata una buona idea. Perché aumenta la velocità. No, secondo me è una buona idea. Non è un problema se moriamo, l'ho capito, dai. Ok. Ok. Scappa. Perché non lo targetta, però? Ho sbagliato, lo so. Ma non è un problema. Ok, dai. Second try. Second try. Game over? Sì. Vabbè, facciamo questo, facciamo, ragazzi. Intanto sarebbe la stessa cosa, no? Aspetta, facciamo una cosa, prima di... Di fare casini. Perché comunque lo voglio salvare. Cioè, voglio... Voglio dire al gioco che sono morto. Non voglio dire che non sono morto. Perfetto. Questo era quello che, purtroppo, non possiamo permetterci. Non vi preoccupate, non si è glitchiato nulla, eh. Allora. Anche la scorsa volta lo fece. Penso che adesso si sistema tutto. Spero. Se no... Esatto. No, 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 no. No, no, no. Non dovevamo cadere. Non dovevamo cadere, però. Ok. Allora. Caro Ganondorf. Dovremmo aver capito. Non capisco perché io ho il costume verde, però. Ah, ok. Quindi, vieni qua. Perché cavolo, però? Non va bene questa cosa. Da parte mia, eh, ovviamente. Ok, dai, concentrato. È bellissimo, ma mi piace da morire come boss. Dai, però. Ok, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Non può essere così preciso. Cioè, è tranquillamente fattibile a noi hit. Ok. Ok. Di avere un timing pazzesco, ragazzi. Headshot, tra l'altro. Scappa, 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 scappa. Ok. Va bene, dai. Credevo di essere colpito, eh. Quasi si... Ho capito perché non posso targettarlo. È Navi che ce lo fa targettare. No, non è vero. Questo... Dai, l'avevo preso, però, questo. Non va bene. Qua ho sbagliato, ragazzi. Aspetta, aspetta, aspetta. Mettiamoci un'ampolla per... Per sicurezza. Ma qua ho sbagliato. Anche perché quando... Lo posso targettare quando è in quel modo. Ecco perché non dovrei sbagliare. Va bene, ma non è un problema. Peccato. Anche la prima volta mi diede... Tanto fastidio. Eh, fastidio. Difficoltà. Il primo... Questo... Questa fase. La prima volta con i quadri, eh. Con lo stregone, com'era. Quella cosa là. Ma ce la... Cioè, è fattibilissimo, dai. Ok. Sbagliato, sbagliato. Non era il tempo giusto, comunque. Ok. Questo è il tempo giusto. Quello di prima. Questo. Ti prego, basta. È una tortura. È l'ultimo colpo, vero? Ho capito. Ho capito. Non ho capito. O forse sì, ma non ho fatto in tempo. Lo rifai? Vero? Sì. Ok, 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 ok. Troppo presto. Cavolo, dai. No, 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 no. Che è successo? Non ho capito cos'è successo. Sì, manca pochissimo, penso. Non abbiamo dei cuori? Non abbiamo dei cuori? Ok. È un po' arrabbiato. Sì. Allora, sì, killer. Ecco, ti dico. Credo che bisogna fare questo. Ah, ok, ha fatto cadere più cose. No. Ma in che senso, ragazzi, ricomincia? È tostarello, allora. Non vedo, non vedo. Ok, dai. Vediamo, vediamo. Ma, mi stai dicendo che non è l'ultimo? Cioè, che bisogna rifare tutto quanto? O comunque vale come ultimo colpo? Ok. Dai, l'avevo preso. Cos'è che ti fai? L'ultimo colpo? Ti prego. Sì. Ok, ok, dai. Silenzio. Non ci credo. Il grande re del male. Sconfitto da un ragazzino? Perché mi sa di seconda fase? No, ma non credo, ragazzi. Non era quel... Non erano quei tempi, dai. Michael! No, ti prego, esplodi. Esplodi e basta. Ti scongiuro. Ok. No, questa cosa mi sa di seconda fase. No, attenzione. Oh, ok. Zelda? Ok. 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 Ganondorf, uomo pietoso. Ganondorf, uomo pietoso. Madonna. Senza una mente giusta e forte, non ha saputo controllare il potere delle idee. E? Le tre idee, no? Le altre forti. Eh, noi mi sa che dobbiamo telare, vero? No, dai, ci saranno navi che ci... No, c'è la discesa. Vabbè, a posto. Michael, ascoltami. Questa torre sta per cadere. Ma dai. Con il suo ultimo respiro Ganondorf sta tentando di farci rimanere sotto le macerie. Dobbiamo scappare ora. Però, cavolo, non abbiamo più fatine. Eh, ti prego, seguimi. Dimmi che siamo full ancora. Sì, sì, ti seguo subito. Abbiamo tre minuti. Però, ragazzi, proprio per il discorso che vi ho detto prima, anche... Intanto siamo full. Vi c'è tutto bene al lavoro? Mentre scappo? So che può sembrare un discorso un po' fuori. Vedo più... Aspetta, killer, aspetta, ti leggo perché no. Vedo più forme geometriche in sto gioco rispetto ad un'azione di geometria. Togli le ali! Alex, many thanks. Comunque sì, killer game. Vabbè, cerchiamo di immaginare comunque delle... delle... delle sagome verosimili, dai. Così almeno... Si va. Ehi, 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 ehi. Eh, sì, non devo seguire te. Vabbè, facciamo una cosa, vado io, eh. Non credo sia un problema, vero? Però quanto va veloce Zelda? Ok. Oh! No, ok, c'è lei. Sì, bro, tutto bene. Mi godo un po' di meditato relax. Tutto ok. Ehi, con i lavori intendi... No, 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 no. Andiamo via. Aia! Con i lavori dello stop parli? Ok. Dei... Con i miei lavori, dici? Aspetta, ragazzi, perché... L'audio è leggermente alto. Eh, sì, ehm... Purtroppo non li posso iniziare se non finiamo questa cosa qua. Quindi li ho... Ho completato... Oh, oh! Andiamo. Ho completato quasi la stesura... Oh, andai! ...del brano di Zelda. Eh, non... Ho lasciato qualcosina, appunto, per il finale. Vediamo. Aia! Però, Zelda, entra e mi lascia indietro. Però l'altro... Devo... Devo... Aspetta un attimo. Mi metto il martello. Mi metto il martello, perché... È l'arma che mi fa... Ah, ok. No, possiamo saltare tutto. Peraltro, devo, appunto... Finire... Concludere qua. Perché, purtroppo, non potrò stare in studio. Quindi sto usando le volte in cui posso stare in studio... Per... Per completare questa avventura. Zelda, se mi fai passare, però... Grazie. Ok. Beh, dai, non credo che ci sia la discesa finale. E poi... Basta, no? Che fa molto... Un altro gioco di quegli anni. Per un'altra piattaforma. No! Ottimo, tempo al tempo. Lo scudo ho parato con... Ho parato con L1, ragazzi. Allora, stiamo calmi perché la vita ci serve, secondo me. Non possiamo giocare tanto. E... Ne deve morire uno. Non abbiamo più... Ok. Mi dai cuori senza... Troppi lag? Nessun cuore. Mi sono scordato che c'è il tempo. È impossibile che tu con una freccia non muoia. Ok, 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 ok. Basta! Quanti devono essere? Target, non vedo nulla. Ragazzi, non puoi targettarmi Zelda. Non andrà a finire bene, vero? Ma dai! Ok. 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 Mi sa che non andrà a finire bene per niente. Spero sia la volta buona. Ti prego dimmi che è finito tutto. No, non è finito tutto. Non credo che ce la faremo. Cavolo, peccato però. Eh, ma è tosta quella. No, so come fare casomai ragazzi. So come fare. No, vabbè, ma è impossibile. Cioè, è impossibile sul serio questa cosa. Cavolo. Ok. Maledetto che respawnano. Sì. Aspetta, però possiamo fare così, dai. Al di là del fatto che non aspetto più lei. Perché chissene. Cioè, proprio chissene, veramente. Ok, dai, 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 dai. Cavolo, è tostarella questa parte, eh. Non è semplice. Non è semplice per niente. Dai, 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 dai. Va bene, dai. Sappiamo cosa fare. Casomai. No, no. Fammi passare a me, fammi passare a me. Dai, 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 dai. Che poi mi viene da pensare, no? Vabbè. Ok, dai. Provo a sp... Provo. Proverò a spammare magia lì. Nel... Nel... Negli scontri. Sì, 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 dai, dai. Dai. Vediamo quanto ci mettiamo a ucciderli con la magia. Magari li prendiamo tutte e due. Vieni qua, venite qua. Ne abbiamo colpiti, vero? No, vabbè, non li abbiamo colpiti, non ci credo. Non vedo nulla. La magia gli ha tolto tanto. Non ho capito, onestamente, cosa è successo adesso. Devo essere sincero. Togliti, togliti, ti prego. Grazie, Zelda. Ragazzi, che dite? Salvo? Ascolto voi. Salvo? Ok. Ok. Ok, ascolto Vicio. Non per... Scusa? Ma sei scema. Cioè, ma ti pare che rimane... Tazza di Zelda Vicio. Va bene, dai. Ce la rischiamo, ce la rischiamo. No, 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 no. Corri, Zelda. Ma ti pare? Dai. Ricorda, in questo momento... Siamo due ragazzini davanti al Nintendo. Lo so, Vicio, hai ragione. È la frase più bella che potessi dire. Ok, ragazzi. Dopo ti spiego. No, che ti devo spiegare? Te l'ho detto prima. Ok. In realtà siamo più di due... Di due, no, vabbè. Sì, no, vabbè. Mi è piaciuta la cosa che hai detto. È proprio perché è quello l'incipit, no? Per carità. È come se siamo io e te, io e Alex, io e Killer, io e Simplisti, io e Franci. Quello è il discorso. La crolle. La torre... Ok, 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 ok. Eh, sì, infatti, sarà finita l'agonia. E io... Non lo so. Ho un... Ho un... No, vabbè, dai, sì, magari... Ringed City? Eh, scusate. Allora, è finita. Oh, è finalmente finita. Le ultime parole famose. Questa è palese, proprio, no? O no? Michael, mi dispiace non averti potuto aiutare in battaglia. Vabbè, adesso c'è un'ultima corsa finale, tipo, con lui che ci insegue dietro. Ok, ragazzi. Siamo due ragazzini davanti al Nintendo. Quindi. No, facciamo una cosa. Non vado al bagno. Vicio, non ci vado. Siamo due ragazzini davanti al Nintendo. E in quegli anni non avremmo resistito... Avremmo resistito per... Per... Per completare l'avventura. Quindi, piuttosto bevo ancora acqua. E si va. Però aspetta. Senza fare gli stupidi. Prepariamoci. Ma va, bro. No, 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 no. Lo bombardiamo. Bello, non ti piace camminare così. Vai. Yuppie! Non è una corsa, ma è una boss fight. Eh, mamma mia! Eh, un'antichietta? Incavolato. Un'antichietta, eh. Non tanto, eh. Vabbè, sì, che fai? Non ti potenzi. Certo. Eh, vabbè. Perché penso che non sia l'ultima live questa? Ganon. Ok. Ganondorf, Ganon. È l'evoluzione. Un tantinello. Sì, ma ho capito cosa bisogna colpire, mi sa, ragazzi. La spada? In nessun modo riuscirà a riportarmi indietro. Stavolta lotteremo insieme. Belli. Ragazzi, ho i brividi. Ho i brividi. Stupendo. Sì, ma non ho la... Non ho la spada. Non ho la spada. No, sul serio, ragazzi. Non ho la spada. No, vabbè, il punto debole è la coda. Dai, si è visto. Però non ho capito. Ah, no, la freccia. Ok. Ok, ok. Aspetta che ti leggo, Kill. No, raga, mi sa che è semplice. Disse. Aspetta, aspetta, vediamo. No, se è così è semplice. E fu così che un ragazzino ed una palla di luce si trovano contro un bestione. La palla di luce è navi. Ok. Vabbè, così è semplice. Così è molto easy. Attenzione, però le frecce occupano magia. Vabbè, casomai abbiamo quelle... Oh. Così è molto semplice. Se è quella giu... Se è la cosa giusta. Ok. Ok, ok, ok. Speedrun, bo... No, vabbè, dai. Era intuibile. Penso che è semplice, sì. Michael, prendi la spada suprema. Sbrigati. Mamma mia. Corri. Però voglio fare una cosa sfregio. Voglio fare proprio una cosa sfregio. Non mi interessa. No, dai. Voglio. Vabbè. Scusate, non ho visto proprio... Ok, non sottovalutiamolo. Mi devo mettere la spada o ce l'ho già? No, ce l'ho. Ok, come... Calmi, calmi. Se non attacchi, non andiamo da nessuna parte. Allora. Non ho visto nulla. Da dove ripartiamo? Da dove ripartiamo? Peccato. Non peccato. Nel senso, non so se... Non ho capito se devo colpirlo in testa adesso. Ok. Ragazzi, rush finale, ma è tosta. Non è vero. Non è tosta. Bisogna solo stare... Però non voglio guardare... Allora. Concentrati. Prendiamo la spada. Vediamo come si muove. E lo colpiamo. Dai. Dai, dai. E comunque... È folle che nel 98 un ragazzino dovesse rifare quel pezzo più e più volte. Cioè, è follemente bello, eh. Pallo. E vola via la spada. Tra l'altro, prima mi ero perso questa scena. Quindi, non tutti i mali vengono per nuocere. Yes, 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 yes. Allora, target subito, per favore. Ok, grazie. Aia. No, vabbè, i massi, ragazzi, no, però. Aspetta, vicio, che non ti leggo. Perché mi dà le bombe? Ah, perché gli puoi lanciare anche le bombe. Questa schivata è stata di un bello... Questa schivata è stata proprio... Ok, anche dopo dovremo colpire la coda. Perché non... Il target, quando ce l'hai di fronte, sembra che sia la testa. Ma in realtà è la coda. Vabbè, questa parte l'abbiamo capita, dai. Oh. Che è successo? Ah, lo fa colpire una volta sola, perfetto. Diciamo che in questo momento, in un universo parallelo, i ragazzini davanti alla Nintendo si staranno mangiando le mani. Ah, sì. Michael, prendi la spada suprema, sbrigati. Arrivo. Anche se potremo... Vabbè. Hai otto frecce. Tranquillo, tranquillo, Alex, tanto non ci servono. Ce n'ho sette adesso. Ok, ragazzi. Siamo full, quindi vediamo solo di... No, non siamo full in realtà. Ok. Vediamo come si muove. Intanto... Beh, questo è stato... Mi sa che è la stessa, sai come si muove? Ok, vieni qua. Non è lo stesso. Ok, ok, ok. Mi ha fatto unire in mente il perché avesse... Non vedo. Che bella la musica, ragazzi, sentite. Le schimate così, ragazzi, mi... Mi... Mi esaltano. Ok, dai. Ci siamo. Se finiamo con l'ultima freccia... No! Ok, tranquilli. Facciamo una cosa. Aspetta. Vediamo cosa ci dice Navi. Non so davvero quale sia il punto debole. Ancora, Navi? Aspetta. È possibile che sia... Vediamo questo. Sì, 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 sì. È confuso. Si confonde con questi. Perfetto. Aia. Questo ha fatto malissimo. Dobbiamo stare attenti. No, ragazzi, no. Non me l'aspettavo. Cacchio, è tosto. Allora. Bellissimo. Mi fa impazzire questa cosa. Allora. Dobbiamo. Sto pensando una cosa. Ci sono. Ci sono. Ci sono benissimo. Ok. Peccato. Dai, è close. Sì, sì. Allora. Useremo... le bombe per la prima fase e le frecce per la seconda. Per stordirlo. Ovviamente, se le bombe le finiamo, no. Dai, facciamo così. Però è una bellissima boss fight finale. Dai, dai. Basta essere solo concentrati. Se avessimo avuto quelle due ampolle qua. Addio, Ganondorf. Il problema è che è un po' difficile schivare. Perché comunque ti pre... Cioè, l'hit non è perfetta. La sua hitbox. Quindi... Cioè, un pochettino... Si allunga. Si allarga quando... Quando ti colpisce. Quindi dobbiamo solo stare attenti. Dai. Proviamo. Penso sia molto complicato quello che voglio fare io. Non credo che con le bombe si possa fare. Però vediamo. Dai. Dai. Proviamo una volta. Credo sia impossibile. Devi calcolare troppe cose. Sì, però devi... Devi usare un tempismo troppo... Troppo pazzo. Ok. Ok. No, dai. Questo era buono. Cavolo, peccato. Ok. Ok. È troppo borderline. Ok. Dai. È una cosa, secondo me... Difficile quella che sto facendo. Cioè, secondo me è molto più complicato di... Mi sto complicando molto la vita. Ah, non posso colpire. Stavo colpendo. Ah, dai. Era buona. Dai, quante ce ne vogliono? Cavolo, ma sono tante le bombe che servono. Concentrati. 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 Eh sì, uso la spada suprema. Dove cavolo vai, Link. Ma veramente... Vabbè, Michael, però ormai lo chiamo Link, ma anche... Allora... Allora... Vieni qua. Se ti... Vabbè... Vabbè... è lungo ragazzi strategia top grazie abbiamo finito le frecce cos'è successo ho sentito tipo no raga c'è un problema ah è lei che urla c'è un problema c'è un vero problema qua eh lo so il problema è che ho paura di quanto mi tolga cacchio eh no no lo so che droppa le pozioni vabbè ci sta la cosa finale mi piace mi piace che si ci metta così tanto allora altra strategia eh no la strategia era era questa ma non va bene perché già non parto full allora damn comunque per le bombe ci vogliono circa 8 o 9 hit per buttarlo giù ok grazie il problema è azzeccare il tempismo perché sei sempre troppo appunto sul filo del rasoio comunque credo che sia siete da ma do che pazienza io avrei già buttato il nintendo giù dalla finestra no vabbè siamo alla fine ragazzi comunque credo sia l'ultimo no sia l'ultima fase credo più che pazienza mi piace che ci siete voi e mi diverto onestamente devo essere sincero e poi non è non è scorretto cioè è una bella boss se fai una bella strategia ti ripaga il volume lo tengo alto ragazzi così almeno abbiamo alla fine sì 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 sto testando eh aspetta però potrei fare questo ok aspetta vicio non ti non ti ora ti leggo eh ok questa è andata benissimo in quella fase proviamo a fare una cosa adesso dai questa mi prende vero no questa è stata troppo a rischio questa è stata troppo a rischio ecco devo fare ok perché non mi ha preso ho sbagliato scusate ho preso l'arco comunque bellissimo boss ovviamente mi piace da morire tanto li avete contati voi io ho completamente ok c'è una frase per ogni parte del corpo debole fase calcolando tutti gli arti di sicuro ci saranno almeno altre quattro fasi no aspetta in che senso michael prendi la spada suprema dopo di questa altre quattro no dai ragazzi ma di cosa seriamente parli vicio ok voglio fare una cosa ti prendo in giro bro ah ok mi hai fatto prendere un infante per questa battuta mi farò uccidere in game adesso un colpetto intanto te lo do se io faccio così no lui si interrompe ok è fatta è fatta ragazzi lui si interrompe ok è più semplice in realtà guardate ok lui si interrompe e scappiamo ok 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 allora li andiamo vicino ok 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 dai 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 ci stavamo complicando un po' troppo la vita adesso come si sol dire lo stiamo pistando se qualcuno mi dice cosa è successo ma cosa cavolo fa no vabbè ragazzi aspettate hai commesso un gravissimo errore sapete che mi sento molto più sicuro ok ho scoperto il perry è vero mmm sto usando il mio potere contro re del male usa la spada per il colpo finale mamma mia oh oh ragazzi il backflip prima del colpo finale è una chicca ok è finito perfetto posiamo il pad e godiamoci fantastico antichi creatori di hyrule no devo andare avanti io no ora aprite il passaggio e mandate l'incarnazione mandate l'incarnazione delle tenebre nel vuoto del regno del mare che figo che figo bellissimo ragazzi cioè stupendo emozione pura comunque grandi strategie insieme alla fine veramente applausi a noi tutti ragazzi sarà pur l'unica avventura che vivremo ma rimarrà veramente veramente una cosa fantastica per chi l'ha vissuta grazie veramente a tutti ragazzi emozionantissimo veramente tu che bello maledetta Zelda maledetti saggi maledetto Michael è fantastico un giorno il sigillo si romperà sarà allora che estriminerò i vostri discendenti senza spoiler voi mi confermate che ogni Zelda ha una storia a sé o c'è un continuo di di Ocarina of Time ovviamente non lo vivremo lo sto dicendo solo così sino a che il potere della Triforza sarà mio come fa ad essere tuo scusa come fa ad essere suo grazie Michael non so di preciso bro ma di sicuro qualche riferimento c'è ah ok per merito duo Ganondorf è stato sigillato nel regno del male la pace ritornerà ancora una volta nel mondo per un po' per un po' tutte le tragedie accadute ad Hyrule sono colpa mia ero così giovane non potevo capire le conseguenze del mio tentativo di gestire il sacro reame e ho coinvolto anche te ora è giunto il momento di pagare per i miei errori riponi la spada suprema sul suo posto al suo posto e chiuderai la porta del tempo beh credo che in ogni Zelda si prenda ammazzate Ganondorf ok e così facendo chiuderai per sempre la via del tempo ok ma in questo modo torneremo sette anni prima quando Ganondorf era ancora no Michael dammilo carina come saggio ti restituirò al tuo tempo è questo che infatti immaginavo ho detto ma adesso noi ci ridaranno indietro i nostri sette anni perché noi non siamo non abbiamo vissuto quei sette anni siamo stati bloccati cavolo molto molto commovente quando tornerà la pace sarà il momento per dirci addio ragazzi è un po' la metafora di questo canale questo è l'ultimo video ragazzi sarà il momento è l'ultimo il saluto ufficiale lo sapete quando c'è stato ok ma questo è l'ultimo video torna a casa Michael torna al tuo tempo i brividini eh sì casa là dove dovresti essere ora la via che dovresti seguire se ce la fate rimanete fino alla fine ragazzi vi devo dire un po' di cose mamma ragazzi ma di che parliamo lei che suona l'ocarina che abbiamo suonato per tutto il gioco per riportarci a casa grazie Michael addio madonna che musica eh sì no vabbè alzo il volume nooo allora vi dico vi svelo un segreto state con me cinque minuti ragazzi perché devo dire delle cose allora il fatto di aver giocato Zelda così io non porto gaming su su Twitch proprio perché ripeto ho sempre vissuto il gaming in una maniera molto gelosa in qual senso mi piace molto l'avventura intima quindi l'idea di avere altre persone eh in live non con me l'ho sempre ritenuta ecco perché non seguo neanche tanto streaming eh di gaming su Twitch anche perché non ne sono capace ecco è quello anche il discorso ho aperto il canale Twitch per fare musica e eh aver preso questo capitolo di Zelda che comunque i iconizza la musica come l'elemento fondamentale per questa avventura per me è tutto consono a quello che faccio io no? ecco perché ne creerò un brano bellissimo ehm proprio perché ho sempre ritenuto un pochettino svilire un po' il concetto di avventura gaming per come la intendo io no? perché non gioco a FIFA o a Fortnite o altre cose il videogame l'ho sempre inteso come un'avventura bella da vivere quindi in questo senso visto che questa è l'ultima avventura che è l'unica avventura che porto qui sul canale perché appunto ehm al di là che il canale avrà uno stop e non so quando e se ripartirà proprio per impegni lavorativi mi fa piacere aver creato questo ricordo che spettacolo perché tutte le live dalla prima alla cinquantaduesima che è questa sono tutte sul mio canale youtube sulla playlist twitch quello che vi posso dire però è che twitch ha delle eccezioni lo dico nel mio piccolo per carità eh e infatti mi fa piacere che ancora qui vicio lo dico anche a te killer game perché magari so che al di là della musica per il quale ti invito magari a seguire anche il mio canale youtube che lì troverai veramente tutti i miei lavori che farò musicalmente che faccio musicalmente e se ti vuoi recuperare qualche live musicale di qua anche per un futuro ritorno qui su twitch in cui farò magari solo musica mi fa piacere ma se vuoi seguire un bel canale di gaming che come incipit ha quello di eh lo dico anche a te Alex ma tu so so già che lo segui ha come incipit quello che abbiamo fatto oggi ovvero il giocare con una persona seppur su twitch attraverso uno schermo ma come se fossimo veramente degli amici o degli amichetti come diceva lui che stanno a casa su un divano a giocare che bello ad un videogame ti invito a seguire Vicio23 il ragazzo che ha commentato prima vabbè questo ma questo questo è bellissimo il ballo di gruppo finale e via quelli non sono i saggi eh che avete visto prima c'è Zora una dei sei saggi quello come quella cosa è macabra quindi eh se volete passare dal canale di Vicio per quanto riguarda il gaming ovviamente lui lo porta in una maniera veramente mi fa sciagliare il blog grazie a mille no vabbè ma ci mancherebbe è la verità lui lo porta in una maniera molto molto da amico molto molto stretta che abbia due spettatori o cinquanta spettatori o duemila lo fa allo stesso modo si mi sono già scritto su youtube e mi ha fatto piacere entrare in questa live perché sei davvero simpatio grazie mille ti ringrazio Killer Game più che altro mi dispiace da una parte che sei arrivato soltanto adesso che hai scoperto il canale soltanto adesso ma mi fa piacere che hai vissuto qualcosa di così poeticamente profondo bello guarda perché loro sono gli abitanti ovviamente del villaggio dove siamo cresciuti noi no ma sto cercando di capire i sei saggi ne manca uno comunque vederli tutti a fare festa è fantastico dopo che li incontri singolarmente si è stupendo mi ricorda molto star wars questa cosa eccoli no ragazzi c'è una tensione aspettate così vi concludo il Dobura Zora lui non me lo ricordo Saria la shake Impa sarebbe una degli shake non mi ricordo lui dispensolo che tu sei arrivato tardi presto ritornerà guardiamo il lato positivo nelle live musicali ho una songlist dal quale accedere ai brani killer che puoi richiedere in live in diretta quindi diciamo li creo proprio il mio mondo ma ci teneva a portare un'avventura videoludica eccolo eccoci siamo tornati bambini e tutto si va quindi il mio non è un voler incitare a non seguirei le persone su twitch che fanno gaming ci mancherebbe però secondo me è bello anche preservarsi delle avventure per conto proprio al di fuori delle eccezioni come ho detto prima di appunto di vicio 23 nel quale veramente ti puoi sentire a casa con un amico che che vi vede un'avventura ma ragazzi noi siamo tornati i bambini comunque io vi dico un altro piccolo segreto è molto probabile che io me lo rigiochi per conto mio questo Zelda bellissimo ragazzi veramente applausi inchini e gloria veramente al titolo che nel 98 penso attenzione no siamo tornati a 7 anni bello davvero bello c'è Luigi ho visto ho visto vi giuro lì dietro in quella finestra c'è l'immagine di Luigi vi giuro che è Luigi quello The Legend of Zelda Ocarina of Time quindi ragazzi adesso datemi del tempo e lavorerò il stregone sì ma sicuramente per forza e quindi e quindi devo spingere un tasto non mi va allora di fronte a questo finale vi dico adesso dovete darmi un bel po' di lavoro di tempo quindi seguitemi su YouTube ovviamente per ogni cosa io aggiorno su Instagram per ogni lavoro che faccio anche per le live su Twitch per tutto quanto quindi seguitemi su Instagram se vi va di sapere quando uscirà anche il videoclip e il brano su Ocarina of Time non vedo l'ora ovviamente il videoclip comprenderà la run che abbiamo che abbiamo fatto insieme un home recap le parti migliori alcune cose poi vedrete no non bisogna non bisogna spingere nulla eh sì spingere questo spingere premere ok erano Luigi e Bowser comunque ok grazie grazie l'ho appena rivisto ok perfetto grazie mille grazie mille grazie mille non so se l'ho detto all'inizio allora ragazzi vi lascio con una con una con un indizio allora 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 ragazzi 1h37 di live siamo ampiamente in tempo per tutto per tutto e non so quando ci rivedremo grande mic per questa avventura spero di rivederti presto in live allora è inutile che io vi dica stupidaggini non sarà presto quanto pensiate voi purtroppo però ripeto se vi fa piacere seguire i miei lavori state aggiornati su youtube perché lavorerò a delle cose che devo far uscire proprio per ci si vede su youtube allora sì grazie e quindi perché ho veramente necessità killer grazie per il per il tuo follow così che abbiamo chiuso quest'ultima live quest'ultimo video anche con un con un follow e è stato bellissimo è molto provabile che io lo rigiochi per conto mio magari per prendere quelle cose che non abbiamo preso o completare quelle quest e quant'altro perché è veramente un'avventura iconica è bellissima e e niente sulle sulle note della nostra sigla o di questo brano comunque che avete sentito per un po' di tempo qua sul mio canale vi è stata un'esperienza assurda anche per noi già te lo dissi mi sono sentito un sacco partecipe questo mi fa piacere perché non volevo assolutamente viso che fosse una mia run una mia run infatti quando mi sfogai mi sfogai parlai del del tempio dell'acqua di cosa mi stesse facendo incavolare se notate lo feci non da criticone ma proprio come se fossi con qualcuno a dire cavolo però perché devono fare in questo modo e quant'altro perché volevo fosse veramente una una singola una singola avventura che si potesse in qualche modo nel mio piccolo ricordare ecco perché mi fa piacere anche che su youtube c'è tutta la playlist dal numero 1 al 52 episodio di live perché è stato tutto un lungo viaggio quindi ragazzi io vi ringrazio ancora e non me lo ricordare quel dungeon sì anche se e qui lo dico fuori dai denti secondo me rifacendolo adesso è normale che riuscirei a farlo più velocemente perché lo conosco ma secondo me qualcosina all'inizio me la sono fatta scappare per via del troppo entusiasmo quindi magari nonostante sia complicato per carità anche per come è sviluppato però secondo me qualcosa me la sono fatta scappare perché poi per il resto Zelda è troppo fatto in maniera equilibrata e perfetta di tutto atmosfere musiche gameplay cioè il boss finale ragazzi l'avete visto abbiamo trovato almeno tre metodi per stordirlo e e comunque almeno due modi per combatterlo in totum il boss finale è divertentissimo cioè è veramente divertente è una cosa divertente proprio giocosa è bella al di là che è bella l'idea tra l'altro la coda fatta un po' ad arcobaleno non so se significasse se significassero tutti i medaglioni o la o parte della triforza non so questo dovrei dovrei capire soprattutto la parte con la freccia di fuoco The Dungeon dell'altra volta sì non c'eri vicio all'inizio non c'eri quando ho detto una cosa se non c'eri dimmelo che lo ridico no te lo dico subito all'inizio live ho aperto la live l'ho detto infatti ad Alex che lui c'era che vicio a fine live dell'altra volta in privato mi ha mandato un video in cui mi ha fatto realizzare e capire ha confermato il discorso che per proseguire in Zelda a parte la freccia tuono che non ti viene che non la devi trovare ma ti viene data prima del dungeon finale con una cutscene proprio ti viene donata e ti fa capire che è un item un key item cioè un oggetto chiave per poter andare avanti e sconfiggere almeno nella prima fase di Ganondorf sicuro ti serve perché lui si riempie di tuoni ed è normale che tu lo devi lo devi far esplodere non è quello per il resto nelle stanze in cui c'è bisogno di accendere le torce o fare cose anche a distanza col fuoco nella scorsa live c'era un ragazzo appunto che ci diceva no guarda devi per forza fare questo devi per forza prendere la freccia e io ho un po' storto il naso infatti siamo andati a prenderla dopo svariati tentativi ciao ciao Alex grazie mille ci vediamo grazie mille per essere passato buona fortuna per tutto Alex per adesso perché non ci vedremo per tanto in live quindi buona fortuna per tutto Alex e Vicio noi io e Vicio sostenevamo il fatto che è impossibile che Zelda ponesse il giocatore in una condizione di stallo proprio di vincolo qualora non non fosse riuscito a trovare la freccia di fuoco che per prenderla era un po' come entrare nei DLC di Dark Souls 1 in Blind Run ovvero dovevi andare in un determinato salire su una pedana aspettare che il sole sorgesse sparare una freccia random al sole c'era un indizio ma non era un indizio così proprio lineare e cadeva una freccia di fuoco dal sole tu attraversavi il fiume e l'andavi a prendere ecco non 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 era così perché si poteva fare in un modo che tra l'altro io stavo provando nella scorsa live come gioco ti ha sempre dato un'alternativa a tutto ciò è fantastico sì esattamente esattamente non era un avventura lineare era un mondo non apertissimo aperto ma soprattutto nelle scelte aperto ma anche nel combattere alcuni boss li puoi bloccarli li puoi stordire li puoi far esplodere è tutto bellissimo e di conseguenza vice mi ha mandato appunto un video che mi confermava che proprio quella parte io avrei dovuto semplicemente spostarmi dalla torcia dalla parte destra alla parte sinistra e avremmo potuto scoccare una freccia fargli prendere fuoco e bruciare la ragnatela che serviva a far cadere a far scendere il raggio di luce che poi con lo scudo avremmo riflesso nei soli per far aprire la porta e si poteva fare linearmente tra l'altro con un modo istintivo che mi ha portato il mio semplice istinto a pensarlo e a pensarlo da entrambe da me e vice e tra l'altro andando avanti c'erano altre torce in altri dungeon tu non c'eri ancora vice non c'eravate mi sembrava che non c'era neanche Alex nei due mini dungeon c'era una parte in cui bisognava farla con o la freccia di fuoco o con un altro metodo che ho subito capito questa volta e infatti una delle volte stavo pensando di farlo in quel modo ovvero con la magia era semplicissimo quindi ragazzi si può fare tutto in Zelda senza gli oggetti terziari ecco questo è il discorso ma abbiamo parlato anche abbastanza di tutto quanto perché abbiamo vissuto il tutto in diretta tazza di link per concludere viso quando vai in live così lasciamo anche detto a killer se ancora in live o a chi c'è di passare da da te nella prossima live così facciamo un po' il lascito del testimone per quest'unica cosa di per quest'ultima avventura di gaming che ho fatto così vi fa capire che è veramente che sarà veramente l'unica che esisterà in questo canale e mi fa piacere domani pomeriggio ok ragazzi allora domani pomeriggio passate nel canale di Vicio ore 15 di solito comunque seguitelo anche su Instagram che lui fa che lui fa lui aggiorna lì è un onore del carpe diem allora dai che se riesco vengo killer guarda fidati non te ne pentirai non te ne pentirai perché se ti sono stato simpatico io fidati Vicio ha lo stesso incipit mio rompe meno i microfoni e ti divertirai da lui assolutamente ragazzi io vi vi invito a seguire la mia musica con molta umiltà ma vi invito a seguirmi su YouTube perché presto arriveranno novità anche per Twitch però per un ipotetico ritorno su YouTube mi trovate e ovviamente da tutte le parti su Google basta che mettete Michele e Mirena trovate di tutto tra l'altro Killer a te non te l'ho detto perché sei l'ultimo arrivato se cerchi Michele e Mirena su internet troverai anche diverse cose belle e importanti per la musica che ho avuto la fortuna di fare tra cui una partecipazione a The Voice of Italy in Rai scusate se non sono stato molto presente ma la canzone la canzone Simplicity quindi Alex se ti va di dare un ascolto anche a tutto ciò mi fa molto piacere Simplicity la canzone dicevo che mi dovrete dare del tempo per realizzare il video e completare un po' il tutto scusate l'ambulanza ma è molto ma molto ma molto vicina a noi la canzone lasciatemi completare un pochettino i poteri della Triforza e e arriverà il brano ragazzi mi metterò al lavoro quindi ragazzi grazie a tutti ultimo sorso d'acqua e poi vado in bagno perché è da prima di Ganondorf che dovevo andare buona giornata bro e un abbraccio a tutti in chat a presto ciao ragazzi è stato bellissimo bellissimo è indimenticabile ciao ciao ragazzi io sono Michele Mirenna e per adesso vi auguro una buona fortuna a tutti ciao